E' un fratello morto partigiano, me lo viene a dire, ma è quali sono che hanno sofferto il riso che corre sulle montagne per liberarci? Come mai il tribunale internazionale non precessa la morte? Adesso ha triplicato i fondi in guerra che paghiamo noi lavoratori, a noi non ci sono i soldi per servizio, questo è il problema, io ho triplicato le soldi. Mi fate ridere, mi fate ridere, molto ridere, fuori dalla guerra senza senso in sua mano, lo diceva lui un anno fa, venite qui a fare questa cosa, mandate a casa, è forse più utile, per tutti, anche per me, per tutti. Chiude il comizio, la Moratti, che ha preso i voti di forza nuova. La Moratti vanno già piscata. Il governo ha dato più soldi per la guerra in organica, per tutti quanti gli ha dati per lui, ma io voto con il ministero. La Moratti, che ha preso i voti di forza nuova, il carbone non farebbe più utile della vita umana. Noi dobbiamo far dire che non si sia il carbone o merda che valga più della vita umana per conquistare un futuro. Ma questo è un problema, ma la Bia Maraca, forse, se a te, vi già fa una manifestazione oltre. Ma di no, stupido. Il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di oggi un'economica di fare, che l'inverno di parte, 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 l'inverno di parte. Il compito della Repubblica, l'inverno di parte, l'inverno di parte, l'inverno di parte, l'inverno di parte.